350.000 è il numero di acquirenti che cercano casa con noi parecchi di questi in questo momento devono sia acquistare ma devono anche vendere e allora potremmo fare un'azione estremamente diretta e concreta una consulenza gratuita per chi deve vendere casa e deve anche acquistarla sono persone che sicuramente vogliono capire bene come funziona un passaggio del genere per questo fare una consulenza completamente gratuita potrà aiutare queste persone che vogliono approfondire come funziona vendere per comprare volevo vedere insieme a voi all'interno della nostra richiesta clienti come contattare tutte queste persone che potrebbero avere questa esigenza accediamo alla nostra richiesta clienti clicco qui richiesta clienti vado su tutte le richieste e inserisco il motivo acquisto acquista e deve vendere casa chiaramente questo è un campo che non sempre compilato però ci sono chi dei clienti che già hanno queste esigenze che noi già lo sappiamo potremmo contattare prima queste persone e poi passare a tutti gli altri chiaramente qui noi avremo come potete vedere 509 dei nostri clienti che hanno questa esigenza cioè acquistano per vendere e per loro potremmo proporre un servizio di consulenza immobiliare gratuita per vendere per comprare perché è un tema estremamente importante per loro spero che l'argomento di oggi vi sia stato utile un grazie a sebastian d'abundo che ha ispirato il tema di oggi vi rinnovo l'invito a inviarci messaggi e temi da affrontare nei prossimi giorni e io resto produttivo a tal proposito una sorpresa per tutti voi venerdì 20 marzo alle ore 10 e 30 ci sarà un videocorso tenuto da simona giacometti proprio sull'utilizzo di tutte le funzioni della richiesta clienti non perdetevelo grazie a tutti